Sheila, domandona, cosa ti mette in imbarazzo? Va bene, proviamo Ce l'hai? Cosa ti mette in imbarazzo? Cosa mi mette a me? Ma poco, decisamente poco, sì Se, allora, va dai, ti faccio delle proposte da imbarazzo, vediamo se ti mette in imbarazzo Camponaturisti estate? Sì No Se nessun problema? Oh sì No, no, assolutamente Via, tranquillo Non potresti andare? No Ti mette in imbarazzo? Dipende, vado, ma se non c'è nessuno che mi conosce, allora là sì, potrei Ah, non c'è nessuno che ti conosce, vai Sì, decisamente Con il tuo finanzato? Anche Lo accompagni? Sicuramente Lui ci sta nudo lì? Sì, sicuro, no, con me ci sta, lo traccio Tranquillo Ma andiamo Andiamoci Allora dai, dici, dove vai in campeggio quest'estate? No, niente campeggio, decisamente No, lo dico per gli amici da casa Niente da trovare No, no Ok, Sheila, grazie Questa è la cosa che ti mette No, niente praticamente, abbiamo un imbarazzo là poco No, è una cosa relativa Se ti entra adesso qui uno in locale dicendo Sheila, ti amo, si mette in ginocchio Un uomo che non hai mai visto Lico, bravo, te garagiamo Cile dei nostri, grande Grazie Grazie Grazie